Lorenzo Codogno, Founder, Lorenzo Codogno, Macro Advisor e non solo professore a London School of Economics. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Le volevo chiedere appunto partire con questa scusa da parte di Angela Merkel sul lockdown errore mio, chiedo scusa ai cittadini. Come interpreta questa decisione all'ultimo e cioè revocare il lockdown duro? Beh, purtroppo sta accadendo un po' in tutti i paesi. Stamattina parlavo con un collega in Svizzera, sta accadendo lo stesso tra i cantoni svizzeri. In Germania è caduto, l'Italia abbiamo la lunga storia dei problemi tra governo centrale e regioni. È chiaro che ci sono problemi di un po' ovunque. È una situazione difficile. Dove c'è autonomia locale per il settore sanitario è chiaro che questo crea dei problemi un po' ovunque. È in dubbio che tutti i paesi stanno un po' imparando dagli errori e stanno cercando di mettere in piedi delle procedure che possano concentrare la decisione, le decisioni a livello centrale quando ci sono eventi come quelli della pandemia, ma allo stesso tempo rispettando l'autonomia regionale e locale. È una situazione difficile. Non ci sono soluzioni facili purtroppo in questo momento, nemmeno tra l'Europa e i paesi membri dell'Unione Europea. Quindi è un problema che va affrontato con il dovuto pragmatismo, devo dire, cercando di trovare delle soluzioni che siano accettabili per tutti. Assolutamente sì. Poi possiamo aspettarci qualche revoca anche del governo italiano? Non è possibile. Non penso, perché già si è preso un impegno Draghi, c'è questa cadenza settimanale. Penso che ormai, a salvo grandi variazioni nell'andamento dei contagi, che sono possibili, però penso che più o meno la strada sia tracciata. Però tutti i governi si tengono le mani libere in questo momento, perché se dovessero esserci delle variazioni nei contagi o un'accelerazione nella vaccinazione, è chiaro che questo cambierebbe anche un po' il calendario. Allora, tra pochissimo andremo a parlare anche del nuovo DL sostegni, soprattutto se secondo lei è sufficiente. Ma prima focalizziamoci su un tema un po' più positivo. L'Europa torna a crescere dopo sei mesi, dopo sei mesi molto spiacevoli a livello di dati macro. Intanto vorrei far vedere velocemente appunto a che cosa mi riferisco ai nostri telespedatori. Questo indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero a 66, tedesco per marzo, a 66,6, poi indice PMI composito tedesco 56,8 e questi sono anche i dati europei, ovvero indice PMI manifatturiero per marzo a 62,4, ben oltre il dato previsto di 57,7 e indice composito dei servizi 52,5 sempre a livello Eurozona, indice dei direttori agli acquisti del settore servizi marzo 48,8. Qual è la sua interpretazione dei dati? In primis e secondo quali sono le sue previsioni naturalmente? Sì, innanzitutto ricordo che questi sono indici dei managers degli acquisti che sono sondaggi però sono sondaggi fatti in maniera molto professionale e molto precisa e storicamente sono molto attendibili perché sono fortemente correlati con l'andamento del PIL. Questo lo dico perché? Perché negli ultimi tempi abbiamo visto un andamento un po' diversificato degli indicatori relativi ai settori dei servizi un po' in tutti i paesi e c'è anche una certa divaricazione all'interno dell'Europa e questo non sorprende perché ci sono paesi che sono più esposti di altri ad alcuni settori economici come il turismo, la ristorazione eccetera o anche la grande distribuzione e quindi questo va a toccare in maniera differenziata le performance dei vari paesi. Però all'interno di questa divarificazione delle performance c'è un andamento positivo, in particolare nel settore manufatturiero, l'abbiamo visto oggi, c'è una dinamica molto pronunciata, molto positiva, che non parte da ieri, è già in corso da vari mesi e che oggi ha visto una forte accelerazione. Quindi questo è un dato positivo. Cosa significa? Significa che nonostante la pandemia, nonostante i lockdowns, le economie stanno imparando ad adattarsi, stanno imparando a mettere in campo delle misure per limitare i contagi, per contrastare la diffusione e per comunque consentire le attività economiche che possono aprire in sicurezza di farlo e di continuare ad operare tranquillamente. Questo è il caso del settore manufatturiero. Quasi tutte le imprese del settore manufatturiero, anche in Italia, sono di fatto aperte in questo momento e questo favorisce chiaramente una ripresa. Poi c'è un discorso anche internazionale, perché alcuni paesi sono più avanti di altri nella ripresa economica, in particolare gli Stati Uniti e la Cina. Questi paesi stanno trascinando il resto del mondo, quindi le esportazioni verso questi paesi stanno andando bene, stanno trascinando l'attività nel settore manufatturiero e i dati di oggi lo confermano. Assolutamente sì. Secondo lei hanno fatto abbastanza bene i paesi ad affrontare questa pandemia? Possiamo fare una specie di resoconto perché ormai è passato quasi un anno e un mese, quindi hanno affrontato nel miglior modo possibile la pandemia e soprattutto cercando di preservare le proprie economie? Questa è una domanda molto difficile, devo dire, anche non mi sento qualificato per poter valutare le politiche sanitarie e di contenimento della pandemia, però nonostante tutti i tentennamenti penso che ci stia avviando verso una situazione di normalizzazione. Tutta la speranza sta nella campagna di vaccinazione ovviamente, perché se la campagna di vaccinazione procede velocemente, come abbiamo visto in alcuni paesi, Regno Unito ad esempio, ma anche altri, questo riduce fortemente i contagi, riduce la mortalità e favorisce una riepertura dell'economia. Quindi questa è la grande sfida in questo momento. Devo dire che a livello europeo c'è stato questo problema di mancanza di vaccini che ha un po' minato la fiducia, se vogliamo. Il 2020 è stato l'anno in cui c'è stata una grande ripresa di fiducia nell'Europa come risposta ai problemi, come un qualcosa che può risolvere i problemi economici. Abbiamo visto degli interventi molto efficaci sia da un punto di vista delle politiche fiscali, sia da un punto di vista delle politiche monetarie. Questa lotta dei vaccini, questa incapacità dell'Europa, e qui non voglio entrare nel dettaglio se è più demerito della Commissione o dei Stati membri, ma di fatto l'Europa ha fallito in certo modo nell'accelerare nella vaccinazione. E questo secondo me va anche al di là dell'aspetto squisitamente sanitario. Tocca anche l'aspetto economico. Prima si pensava che l'Europa potesse fare, potesse fare le cose, avesse la piena fiducia e potesse operare in maniera abbastanza rapida e adeguata. Secondo me questo ha un po' minato questa aspettativa e quindi ha introdotto un po' più di incertezza e un po' più di preoccupazione, devo dire, anche in ambito economico. Quindi la decisione di bandire le esportazioni di vaccini da parte della UE, di cui abbiamo parlato proprio a poco fa, evidentemente non è proprio un ban per essere chiari, semplicemente si valutano due criteri, in particolar modo la reciprocità e la proporzionalità. È stata una decisione corretta? Anche qua me ne rendo conto che è una domanda molto delicata. È una decisione corretta perché è chiaro che la situazione era difficile, bisognava trovare una soluzione, però ricordo che la guerra vaccinale non è una soluzione, non è una soluzione per l'Europa, non è a livello globale. Le faccio un esempio, il vaccino AstraZeneca ha una componente che è prodotta esclusivamente nel Regno Unito, nel Chasher, e senza questa componente nemmeno la produzione in Belgio può andare avanti. Quindi se l'Europa bloccasse l'esportazione di questo vaccino nei confronti della Gran Bretagna o anche di altri paesi e questi reciprocassero bloccando l'esportazione di componenti, si bloccherebbe tutto, si bloccherebbe la vaccinazione. Quindi questa non è una soluzione, è una soluzione nella misura in cui è una minaccia per convincere paesi o aziende, perché qui stiamo parlando di aziende, che stanno adottando politiche selettive di avere una politica più uniforme, meno ambigua da un punto di vista anche della comunicazione e quindi questo può portare ad una soluzione di problemi. Però la soluzione di problemi non può essere la guerra dei vaccini, ma deve essere un accordo tra paesi per migliorare e accelerare l'accesso e la disponibilità dei vaccini stessi. Ecco, ultimissimo argomento che vorrei toccare, il nuovo DL sostegni. Naturalmente, come abbiamo detto anche nel nostro TG News, ci sono due requisiti aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fattorato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Come valuta queste misure di governo che effettivamente bisogna affrontare in qualche modo tutto ciò che accade con il settore dei servizi? E poi naturalmente è tuttora da notare la forte differenza tra liquidità emessa negli Stati Uniti e in Europa? E quando parlo di Europa parlo a livello europeo? Sì, allora l'ultimo pacchetto statunitense, sappiamo, è stato un pacchetto massiccio, 1.9 trillion, che per circa metà va di fatto a mettere quattrini nelle tasche dei cittadini o attraverso degli assegni o attraverso sussidi di disoccupazione. Quindi dal punto di vista delle imprese non c'è, cioè è meno importante il sussidio, il supporto. Va detto che bisogna chiarirci su qual è la finalità di tutto questo. La finalità è quello di fare in modo che le aziende passino questo momento molto difficile, sopravvivono e riescano a ripartire quando ci sarà la riepertura dal lockdown con una ripresa forte e che, ripeto, siano in condizioni di non licenziare i propri dipendenti, di non chiudere l'attività, di non ridurre, di non tagliare rami di attività, eccetera. Non è la finalità quella di compensare completamente le perdite, perché altrimenti sarebbe un problema per le finanze pubbliche di dimensioni colossali. Quindi è chiaro che queste misure possono essere percepite come insufficienti, in effetti l'Europa probabilmente dovrà fare di più rispetto agli Stati Uniti nei prossimi mesi e sono convinto che anche in Italia questo non sarà l'ultimo pacchetto. Però dobbiamo anche abbassare le aspettative perché gli aiuti statali non arriveranno mai a compensare le perdite, sarà sempre un aiuto teso semplicemente a far sopravvivere l'azienda, l'impresa, a far sopravvivere le persone, a far passare questo difficile periodo per poi consentire di riaprire l'attività economica appena questo sarà possibile. Grazie mille, grazie mille a Lorenzo Codonio, founder Lorenzo Codonio Macro Advisors e professore a London School of Economics. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie mille, saluti.